...parnevale si fa vedere colpendo la traversa. Allora c'è avuto un dialogo Renica-Maradona-Palo con Baldieri che sul rimpallo prende dalla bandierina ed evita di forzare il sinistro su punizione. Allora vengono fuori tutti la traversa di De Napoli e Sonetti dalla panchina tira un sottotitolo giusto ma c'è la traversa. Al sessantaquattresimo... Dopo il tiro è spinto... ...presa ma prima vediamo un palo di Manfredonia che conclude... Arriva così, palo di Verza, entra Galia... Selvaggi vedete, pallonetto, traversa, testa... Lancio di Caffarelli, misuratissimo, e dal fiume coglie il palo... Contro, sull'invito di Bibi, Cupini colpisce la traversa... ...testa, colpisce la traversa... Partito benissimo, una traversa subito all'inizio... ...ale coglie in pieno la traversa... ...con Pari lanciato da Mancini... ...possa e reso su invito dello stesso Pari... ...nella rim... Al trentesimo un tiro di Lopez viene deviato sulla base del... ...in questo caso su un tiro di Giannino... L'ultimo brivido, Massaro colpisce la traversa, la palla rimbalza sulla linea di porta e... ...alla mezz'ora Mauro spara una gran botta, da fuori i soldati mette la testa... ...come questa azione conclusa con un tiro di bagni sul palo... ...un gran sinistro angolato e potente di Pellegrino Valente... ...mette dentro il pallone... ...traversa... ...e controlla poi... ...pace di fare Benedetti, il palo è centrato in pieno... ...conterna del montante... ...che finisce sulla traversa, attenzione, ecco il pallone sulla traversa, poi esce Piotti e... ...vinti... Grazie a tutti